Ciao, sono Davide Olivieri di Teleimpianti S.P.A. Oggi vorrei parlarvi di una particolare applicazione dei sistemi di controllo accessi, quella protezione che parte dal perimetro esterno, i cancelli dove entrano le persone a piedi e i cancelli dove entrano i mezzi. Oggi è possibile dotare i varchi di accesso di sistemi di rilevazione automatica, quindi per l'ingresso degli automezzi sistemi di lettura targhe o sistemi tipo telepass che consentono l'accesso sicuro e controllato delle auto autorizzate all'interno dell'edificio, all'interno della proprietà, mentre fermano per identificazione le persone, i mezzi che non sono autorizzati. In questo modo il dipendente che arriva la mattina a lavorare non troverà il cancello chiuso, ma neanche aperto. Avrà una sbarra e tramite il tag che gli è stato dato dall'azienda e che lui avrà all'interno dell'auto, avrà l'apertura automatica della sbarra. Per i visitatori occasionali o i fornitori occasionali ci sarà un videocitofono IP che sarà interfacciato all'impianto telefonico dell'azienda, pertanto anche quando la centralinista o l'operatrice addetta alla reception non è presente, si potrà garantire una risposta perché potranno suonare dei telefoni interni dell'azienda che verranno adibiti a questa funzionalità. In questo modo si ottiene un controllo attento e puntuale di chi entra in azienda con una tecnologia estremamente flessibile che può essere configurata all'occorrenza in qualunque momento. Se volete delle informazioni su questo tipo di applicazione vi invitiamo a visitare il nostro sito www.teleimpianti.it per avere maggiori dettagli. Grazie.